Certamente è il cambiamento epocale che è stato detto avvenuto il 3 ottobre del 20 con la prima chiusura con differenza di livelli tra mare e laguna del Mose che ha permesso di mantenere una quota in città, in laguna, in laguna e quindi in città, più bassa di quella del mare. È una cosa davvero straordinaria a cui sono seguiti da questa prima chiusura una cinquantina di eventi di tutti i tipi di cui alcuni, anche come quello che è successo subito dopo a dicembre, di chiusura continuativa per 44 ore delle barriere, un chilometro e sette di barriera che chiudono il mare rispetto alla laguna e anche più recentemente ha evitato la seconda o la terza alluvione di sempre che sarebbe stata devastante come quella dell'anno del 2019. Ma è anche molto importante quello che è accaduto il 19 novembre con questa presenza della barriera che ha dimostrato che alcune delle nostre idee erano giuste, cioè che è possibile tenere l'acqua salata distante dai marmi, dai mattoni, dagli intonaci, dai mosaici, dai manufatti che l'acqua salata rovina. Adesso in realtà le ricerche di Venezia 2021 non hanno riguardato solamente la basilica ovviamente ma in generale quella laguna che cambia, cambia e ringrazio molto il primo procuratore Carlo Alberto Tesserin per mostrarci, averci ricordato come siamo in un cambiamento molto grande. Per la prima volta la nostra laguna diventa regolata non tanto e non solo dalle maree normali ma da un uso antropico che impedisce o sopra una certa soglia l'entrata e il respiro della laguna con il mare. Molto brevemente nelle ricerche ci siamo interrogati su quello che è e quello che sarà lo stato ecologico della laguna guardando anche l'effetto delle chiusure del Mose su tutta una serie di questioni che riguardano più l'ecologia, la produzione dei moluschi, l'idrodinamica dei tributari d'Alquadolce, i processi di sedimentazione, le barene, le specie ittiche ma anche i danni potenziali nella città che sono causati dalle allusioni, in questo caso gli effetti sono evidentemente positive. Ma c'è tutto un sistema, mi piace ricordare questo cambiamento e come deve essere misurato anche in termini quantitativi quindi noi siamo in un concetto, gli ingegneri normalmente sono abituati a dare numeri e a lavorare con i numeri. Quindi è necessario anche nei processi ecologici arrivare a una quantificazione delle diverse componenti e per poter portare degli elementi che ci permettono di usare meglio questo sistema molto complesso e molto bello per gli effetti positivi che esso ha ma in modo che non abbia effetti negativi sulle altre componenti. Ma poi i risultati, il problema è non solo di dire quello che succede ma quello che succederà e siccome la sfera di cristallo su ebay l'avevano finita possiamo solo affidarsi a quelle che sono le modellazioni matematiche la capacità di comprendere i fenomeni per poter poi proiettare quello che potrebbe essere nel futuro. Allora ci sono una serie di cose che adesso è inutile ovviamente di queste ne parlerò solo di una quello che può essere i cambiamenti dalla struttura ecologica della laguna in un contesto di cambiamento del clima che non è solamente la risalita a livello medio del mare ma che è molteplice. Poi in realtà sui cambiamenti del livello del mare c'è questa leggenda metropolitana che la qualta Venezia c'è sempre stata. No, semplicemente non è vero. Questo non essere vero è dimostrato dal grafico pubblicato dal Comune di Venezia in cui sono le invasioni mareali sopra i 110 cm per ogni decade. Quindi c'è una linea chiara circa che sta attorno al secondo dopoguerra prima del quale gli eventi erano in una decade 2, 3, 4 e dopo sono cresciuti in maniera consistente fino a che appunto dal venti in poi siamo tornati. Ma la decade 2010-2019 abbiamo avuto 95 invasioni mareali sopra i 110 cm. Quindi se poi noi andiamo a guardare quello che succede sopra i 130 cm le acque alte registrate sono state solo 2 prima della guerra nel secolo da quando si registra, cioè dal 1879 circa, sono state 2 su 49 e di esse ben 42 si sono verificate negli anni successivi al 78 cioè da quando io ho fatto la maturità nel 78 quindi le ho viste accadere e ben 16 di queste nella decade del 2010-2020. Cosa vuol dire? Perché anche l'altezza non è solo l'acqua alta, è l'altezza dell'acqua. Cosa vuol dire questo? E prendo una tavola dello studio Rinaldo per mostrare gli effetti sulla Basilica di San Marco degli eventi mareali. Quando si è, è vero, a 65 ci si bagna e si bagnano le parti più vicine, il pavimento del Nartece, i pavimenti e si va contro la prima parte delle colonne. Ma già a 1,20 m si va a toccare i basamenti delle colonne a 1,44 m che hanno visto accadere ai marmi, e lo dirà bene, piana successivamente, è che erano cose che non erano mai successe prima. Mai nel passato erano stati così soggetti all'azione corrosiva del sale, se non in maniera molto occasionale. Qua invece sono state frequentemente toccate, per i motivi che vi spiegheranno, quelli che mi seguono, il sale, questo bagnasciuga continuo, è quello che corrompe e rompe dall'interno la struttura. È peggio che un cancro, perché il sale, quando poi viene bagnato, cristallizza, l'acqua evapora, il sale rimane, cristallizza e rompe le strutture dei mattoni e dei marmi, degli intonaci, delle malte. Ecco, però quindi la risalita del livello del mare, questo torniamo alle ricerche, è un fenomeno complesso, non è lineare, non lo è stato lineare negli anni da quando cominciamo ad avere degli strumenti affidabili. Vedete che ci sono delle, come segue quasi questa linea spezzata in cui si sono tutti gli anni, segue però degli andamenti di calma e di aumento più repentino. E pare che ci sia quasi una certa periodicità. Inoltre, tanto per complicare il quadro, noi nei decenni del dopoguerra, da quando abbiamo inventato la plastica, il Moplen, abbiamo estratto da sottosuolo per usi industriali, vicino a Marghera, quantità molto forti di acqua e questo ha portato a una subsidenza che si aggiunge a quella naturale. Abbiamo perso 14 centimetri e anche questo era un fatto evidenziato. Era stato un po' meno studiato questa specie di alternanza. Cosa che è stata fatta negli ultimi anni, grazie a queste ricerche, guardando anche questa alternanza, se c'era una connessione con altri fenomeni che possono influenzare, appunto, che sono quelli connessi al cambiamento del clima globale. Allora, la letteratura presenta un fenomeno noto che è quello dell'Atlantic Multidecal Variability, che è in qualche modo in correlazione, che dipende anche da quello come funziona il pianeta, il sole, la radiazione solare che non è costante, che ha diversi cicli e questo è un fenomeno noto e descritto in climatologia e i ricercatori dell'Università Ca' Foscari, in questo caso quelli del CNR, hanno messo in relazione questa oscillazione multidecadeale con quella oscillazione del livello del mare. Ci sono delle fasi più stabili e delle fasi meno. Quindi noi abbiamo avuto in particolare una fase in cui invece molto corrispondente negli ultimi dieci anni e abbiamo visto che sono incrementate molto le acque alte. Possiamo anche, e a parte queste oscillazioni, vogliamo vedere anche quali sono i trend futuri. Il problema è che quelli trend futuri sono molto incerti, un po' perché sono complicati a stabilirsi, per il problema che ci manca la sfera di cristallo e gli strumenti matematici che abbiamo a nostra conoscenza sono migliorati rispetto a qualche anno fa, ma non sono ancora perfetti. E poi dipende anche un po' dai comportamenti che avremo non solo noi a Venezia, ma in tutta l'umanità. Cioè se riusciremo a rispettare gli accordi che le conferenze intergovernative ogni tanto fanno, quella ultima di Parigi sul clima, riducendo sostanzialmente le nostre emissioni di gas serra, o non ci riusciremo. Allora c'è uno scenario, l'IPCC, che è questo organismo intergovernativo mondiale che raccoglie quello che è la letteratura scientifica, la seleziona per renderla disponibile ai policy makers, ha fatto degli scenari, ha fatto dei ragionamenti con degli scenari ottimistici, cioè che ci riusciamo effettivamente a rispettare gli accordi, e che è quello RCP 2.6, che è quello in blu, diciamo nella foto, che proietta cosa succede, questa è stata la risalita a livello del mare a livello globale negli ultimi anni, scusate, a Venezia, e quello proietta questo risultato con una forcella di incertezza per la fine del secolo, quindi dai 30 al minimo ai 50 al massimo. Questo è molto ottimistico, vuol dire che noi abbiamo dei modelli conservativi sulla risalita del mare e abbiamo l'affettiva possibilità di ridurre i gas serra. Se questo non avviene, invece, e magari possiamo essere un po' meno ottimisti sugli effetti del cambiamento del clima sulla risalita del mare, andiamo in questo scenario pessimistico di emissioni e dove la forcella si ampia, faccio notare in particolare dopo il 2050, i due scenari sono molto diversi, che può portare fino a oltre un metro, diciamo 70 centimetri nel caso medio, ma nel caso peggiore anche oltre il metro, alla fine del 2100. Esiste anche un altro scenario che è catastrofico, non è pessimistico, è che i cambiamenti del clima portino a un scioglimento delle calotte polari in tipo massivo, sostanziale. Allora, questa sarebbe la proiezione, questa linea tratteggiata in cui ci troviamo a un metro e ottanta alla fine del secolo. Questo cosa vuol dire per Venezia? Vuol dire che tra 25 anni, 30 anni, diciamo, quando saremo in questa operazione, ci potremmo essere in relazione a che siamo ottimisti, cioè che siamo riusciti effettivamente a ridurre le emissioni o che non lo siamo riusciti, in una situazione in cui per circa 500 ore all'anno il Mose viene chiuso. È già una quota sostanziale, per cui gli effetti ecologici si possono continuare a sentire. Ma addirittura, se in ogni caso questo scenario di 500 ore è virtualmente certo, cioè viene previsto in tutti i casi, alla fine del secolo. Quindi noi sappiamo che tra un periodo che può andare tra 40 anni e 60, 80, avremo 500 ore di chiusura all'anno, quasi certamente. Se invece le cose vanno male, quindi gli scenari sono più pessimistici e la risalita del velo del mare è più veloce, questo tempo complessivo di chiusura del Mose arriva a due mesi, già nel 2050, e arriva sicuramente alla fine del secolo anche in uno scenario mediamente ottimistico e addirittura può arrivare prima, attorno al 2070, a sei mesi di chiusura. Questi sono gli scenari che vengono consegnati alla comunione pubblica e soprattutto ai decision makers. Cosa fare rispetto a questo che succede? È molto complicato pensare, comunicare questa incertezza e le previsioni, perché la gente dice che vuole dire che non siete capaci. No, non è una processione giusta o sbagliata. La processione è incerta con il livello di incertezza che viene dato. Stiamo attenti che non è detto che se i prossimi anni avranno un incremento minore le cose andranno meglio a fine secolo. Potremmo trovarsi in una situazione di questo tipo, che la previsione e la proiezione, per effetto della differenza, precisione statistica, dell'incertezza come si evolve tra il breve termine e il lungo termine, ancorché la proiezione sia uguale, potremmo trovarci in una situazione di minore risalita del livello del mare. Ma non è detto che le cose andranno meglio a fine secolo. Ma non è neanche detto che chi la spara più grossa sia più conservativo. Bisogna stare molto attenti perché diciamo che andiamo subito a spararla alta. È il problema per avere delle decisioni politiche intelligenti, basate sulla conoscenza, è quello che è il rise sizing delle cose. Quindi non serve, ed è anzi dannoso, fasciarsi la testa prima di essersi la rotta. Però bisogna fare oggi quello che è necessario fare, avendo in mente quello che si può fare nel futuro. Superare la logica dell'O-O, cioè non è che dobbiamo dire che il MOSE non va bene perché non ci proteggerà tra 100 anni. Ora ci protegge, dobbiamo sapere che tra 100 anni dovremo pensare a qualcosa di diverso, e quindi dovremmo avere qualcosa di diverso, e quindi conviene pensarci già adesso. E imparare a gestire quelli che sono gli strumenti che abbiamo. Siamo in una learning phase. Gestire oggi per capire meglio cosa succede e scegliere il paradigma di protezione che avremo nel futuro. In questo conoscere dobbiamo anche capire, e sono state queste le cose che sono state approfondite nelle ricerche di Corila, che sono state fatte da 200 ricercatori delle diverse università e enti pubblici di ricerca che hanno partecipato, qual è il migliorare il quadro conoscitivo del paesaggio lagunare e capirne l'evoluzione climatica, socio-economica e anche della governance. Dobbiamo capire, per esempio nel caso che interessa molti di noi che sono in questa sala, non abbiamo più le acque alte, cambia la distribuzione dell'umidità del contenuto di sali solubili nelle murature. Dovremo capire come sta evolvendo e come può evolvere nei prossimi trent'anni. E cerchiamo di capire meglio questo processo della umidità di risalita. Abbiamo probabilmente sottovalutato gli effetti dell'acqua salata sulle murature e sui marmi a San Marco. Quello che è successo negli ultimi cinquant'anni è stato veramente devastante. Quindi dobbiamo capire meglio per il futuro i modelli indicatori per valutazione di vulnerabilità. Abbiamo fatto delle prove. Abbiamo nuovi indicatori multidisciplinari sullo stato di conservazione delle murature. Dobbiamo, assieme alle istituzioni pubbliche, definire un piano di monitoraggio e controllo sia degli edifici pubblici che di quelli privati per riuscire a capire, avere con metodologie nuove, anche non invasive, economiche e smart, capire quali sono le evoluzioni che avremo nei prossimi anni. E qualche prova l'è stata fatta. Questa è un'idea sul piano di adattamento territoriale. Con il Comune di Venezia abbiamo collaborato nel piano clima del Comune, che non è solamente della città di Venezia, ma del suo insieme. Ecco, la conclusione delle ricerche, cosa sono? Noi abbiamo un sistema MOSE che include le barriere dell'imprimazione della piazza, che è una misura di adattamento al C-Level Rise. Salva la città, Venezia salva, hashtag Venezia salva, dei deleteri effetti delle rinnovazioni ricorrenti e cominciamo un'esperienza di laguna regolata. Ma bisogna completare gli interventi in città. Questo progetto di ricerca è stato un progetto grande, che ha avuto un finanziamento sostanziale di 10 milioni di euro da parte del Progetto Rato. Abbiamo sviluppato nuova conoscenza di grande qualità. Sappiamo da dove si parte in questa nuova fase. Abbiamo i modelli che ci permettono di capire quale sarà abbastanza bene, meglio di prima, quale può essere il futuro. La sfida è quella di avere una gestione consapevole, sostenibile ed adattativa non solo del sistema MOSE, ma dell'intero insieme città-laguna. Questo permetterà di pensare oggi agli ulteriori interventi che dovranno essere progettati e realizzati prima della fine del secolo corrente. Ci abbiamo messo 50 anni da quando è stato pensato a fare il MOSE. Forse è bene cominciare a pensare adesso a quello che succederà alla fine del secolo per fare fronte ai diversi effetti del cambiamento del clima. Ecco, l'unica cosa è che possiamo dire che qualcosa abbiamo migliorato perché questa era la situazione che succedeva anche d'estate. Adesso non erano tanto belle queste staccionate, voglio dire. Quindi le barriere di vetro hanno risolto, l'imperminazione del Nartece e le barriere di vetro hanno risolto una situazione che, come qualcuno ha già detto, si presentava a ogni picco di marea anche durante d'estate. Quindi questa pozzanghera almeno non ce l'abbiamo più. Grazie.